Tranquilli, non mi sono fatto male. Questa è una stampella di cui tra qualche secondo vi parlerò. Sapete che Melucci non riesce più a governare, il sindaco di Taranto non ha una maggioranza e ha bisogno di ricorrere a varie stampelle pur di proseguire questa agonia, questo incubo amministrativo. Voglio farvi conoscere i soggetti che faranno da stampella al sindaco Melucci. Per quanto riguarda la sfiducia, arriveremo in consiglio con la mozione di sfiducia, 15 la voteranno, i 13 firmatari più Odone contrario, ne rimangono quattro tra coloro i quali sono sospesi. Piero Bitetti, Stefania Fornaro, Massimiliano Stellato e Carmen Casulla. Alla fine vedrete non lo manderanno a casa. Quindi sono quattro stampelle. Analizziamo la prima stampella perché questa qui, la signora Stefania Fornaro, è quella che già si è esposta. Vedete, questa stampella aiuta il buon Melucci a campare. Stefania Fornaro sembrava Alice nel Paese delle Meraviglie, così ha detto che si trovava a Roma per faccende sue personali e non lo metto in dubbio e all'improvviso il sindaco Melucci l'ha chiamata e ha detto sai, sto andando dal ministro per le imprese Urso, vuoi venire pure tu? È un po' come la Madonna che fu chiamata dall'Arcangelo Gabriele. Maria, tu sarai la mamma di Gesù Bambino. E così Melucci ha chiamato Stefania Fornaro, quella che ancora non aveva detto con chi stava politicamente, se doveva sostenere o meno Melucci, Stefania Fornaro appartiene a Con, con il movimento di Emiliano che ha condannato a morte politicamente Melucci, Stefania Fornaro ama fare la furbetta politicamente, molto furbetta e si è incontrata e poi alla fine ha detto bisogna riconoscere che dovevo stare accanto al sindaco il quale si sta difendendo, si sta spendendo per la salute dei cittadini di tanto, ma dove, in quale film hai visto questo? Ma Stefania Fornaro, vediamo la storia di Stefania Fornaro, la stampella, vedete la stampella di Rinaldo Melucci, Stefania Fornaro. Stefania Fornaro era candidata, fu candidata alle politiche con il centrodestra, con il centrodestra signori cari, candidata non alle ultime, alle precedenti, non a queste ultime politiche, ma alle precedenti, con il centrodestra, poi salto della quaglia e diventa persona di centrosinistra e se ne va con con il movimento di Emiliano, è tutto documentato, lo state vedendo dalle locandine, poi però si mette anche contro, tradisce di fatto politicamente Emiliano, perché Emiliano dice bisogna buttare a terra Melucci e invece Stefania Fornaro fa la furbetta e al bilancio, al momento di votare, Stefania Fornaro si astiene e quindi va contro la linea di Emiliano, ora lo salverà perché non voterà la mozione di sfiducia, è già politicamente pappa e ciccia con Melucci, non so se farà direttamente l'assessore o se designerà un'altra persona, sta di fatto che Stefania Fornaro è una delle quattro stampelle, per ora è una stampella sicura, vedete, anzi di città, Taras, il buon Melucci e Stefania Fornaro che è la stampella, nulla di personale nei confronti di Stefania Fornaro, brava persona, simpatica, nulla da dire sul piano personale, politicamente però è il contrario di tutto, è l'incoerenza fatta per solo. E per favore Stefania Fornaro non mi venire a dire che tu non ne sapevi niente e che così ti ha chiamato Melucci, quello è stato un messaggio molto ma molto chiaro, d'altronde tu mica potevi allontanarti politicamente da Piero Bitetti, mister 7700 Euro al mese, tutto lecito, Presidente del Consiglio e Bitetti lasciava 7700 Euro al mese per far cadere Melucci? Aprite gli occhi cittadini! Bene, termina qui la presentazione della prima stampella Stefania Fornaro e ne faremo conoscere altre, le altre tre restanti stampelle e Melucci in questo modo, così, zoppicando, zoppicando, mantiene i suoi 11.000 Euro al mese. Nel frattempo però la città precipita in maniera vergognosa e davvero mantenere in piedi Melucci significa compiere un atto davvero spudorato dal punto di vista politico.